Grazie. Perché il sottostante è, se volete rimanere nella logica del Pui, dovete garantire che voi portate a termine le opere. Il principio è giustissimo, basta che si applichi a tutti, cioè non è che è immaginabile che Fitto usi questa regola per il Comune e non per i suoi colleghi di governo. Al netto di ciò capisco, noi abbiamo quattro progetti, mi pare per circa 130 milioni, ma siamo in condizione di portarli a termine entro il giugno del 2026, quindi risponderemo dando i dettagli che richiede. Ok, grazie.